Prima di parlare di Kepler faccio una breve introduzione sull'esperienza da cui è nato Kepler 452 che è il Festival 2030, un festival di teatro, un festival in qualche modo di confine rispetto al sistema teatrale nel senso che siamo veramente nati a margine del sistema ma centrale geograficamente perché ha sede a 300 metri da Piazza Maggiore a Bologna all'Oratore di San Filippo Neri quindi rispetto al problema dei nuovi centri noi ci muoviamo su un terreno in realtà molto centrale ma nasce Festival 2030 da un'osservazione di un vuoto di pubblico, un vuoto generazionale il vuoto degli spettatori che hanno tra i 20 e i 30 anni anche rispetto alle compagnie, agli spettacoli di compagnie under 35 che spesso si trovano davanti a sale vuote e che non riescono a relazionarsi a parlare con i propri coetanei e per questo è nato Festival 2030 che porta proprio nel suo nome il target del pubblico a cui si rivolge. Festival 2030 si basa su una pratica abbastanza semplice che è quella di invitare delle compagnie a fare una replica di un loro spettacolo e a tenere un laboratorio breve di 4 giorni, gratuito per chi vi si iscrive che crea in ogni edizione una formazione di un centinaio di spettatori e laboratori andi che si aggregano attorno al festival e che vivono per una settimana gli spazi dell'oratorio di San Filippo Neri Festival 2030 è scandalosamente gratis come scriviamo noi sulla nostra brochure sono gratis i laboratori, sono gratis gli spettacoli e come diceva prima Chiara Guidi noi non lo facciamo perché abbiamo una missione sociale se non quella nostra di affetto nei confronti del pubblico e di affetto nei confronti del loro sguardo e quindi forse è più un problema nostro che cerchiamo di risolvere cioè quello dell'assenza di sguardo del pubblico e quindi cerchiamo attraverso la gratuità di risolvere anche questa distanza dall'esperienza di Festival 2030 è nata un'esperienza interna che è quella dell'avanguardia di 2030 un gruppo di spettatori che frequentavano i laboratori che si sono ripresentati nel corso delle prime tradizioni e che hanno cominciato a esprimere un affetto a loro volta nei nostri confronti un desiderio di partecipazione, di partecipare attivamente e attualmente sono una ventina di ragazzi tra cui Enrico e Giacomo che sono intervenuti prima e che fanno parte anche della direzione e dell'organizzazione del Festival da quest'anno all'interno di Festival 2030 è nata Kepler 452 che è la nostra compagnia ed è nata proprio con due spettacoli che entrambi contenevano nel titolo la parola rivoluzione uno di questi era un primo esperimento di quello che diciamo si definisce di solito teatro partecipato qualunque cosa questo voglia dire forse neanche noi l'abbiamo ancora capito però è semplicemente siamo partiti volendo coinvolgere una comunità all'interno di uno spettacolo e per farlo nella nostra prima esperienza abbiamo fatto un passo brevissimo verso una comunità siamo usciti proprio dal palco e siamo andati nella platea e abbiamo cominciato a coinvolgere la comunità degli spettatori del Festival in particolare le avanguardie e le abbiamo portate in scena chiedendo a loro qualcosa che avesse a che fare con la parola rivoluzione e a loro volta abbiamo chiesto a loro di portare i loro rivoluzionari chi tra le persone che conoscevano e che potevano portare fisicamente sul palco chi erano i rivoluzionari questo ha creato una sorta di cerchi concentrici di comunità che si sono aggregate attorno al nostro Festival e che quindi da un lato sono diventate esperienze di partecipazione attiva del pubblico dall'altro sono diventate proprio degli esperimenti di teatro partecipato e quel tentativo in qualche modo di cui parlava il professor Guccini e quindi di portare il reale sul palco in qualche modo poi la nostra compagnia è andata avanti con questo filone allargandosi sempre di più e raggiungendo dei luoghi sempre più lontani delle periferie sempre più lontane infatti in quei giorni quando abbiamo creato la compagnia dovevamo scegliere una grafica per Facebook e abbiamo scelto una lavatrice che si muove nello spazio non sapevamo bene perché e forse ce ne siamo l'abbiamo capito adesso perché la lavatrice che esprimeva il concetto di rivoluzione nella sua centrifuga ci raccontava qualcosa di un movimento che noi stavamo facendo cioè un movimento centrifugo verso fuori per poi riportare dentro qualcosa e riportarlo sul palco e bom, io ho finito con questa introduzione ti lascio in un discorso più complesso di questo bene questa è la solo introduzione il momento è tragico a causa dell'assenza di pausa lo so a proposito di pubblico cercherò di essere ritmato e vorrei per raccontare provare a raccontarvi l'esperienza di che cosa è stato fin qui Kepler per aggrapparmi ad alcune parole che sono emerse nel corso della giornata la prima è che mi ha fatto piacerissimo che sia emersa è stata dell'assessore Chiaretti che così in apertura ha parlato di alieni noi ci chiamiamo Kepler 452 ma non abbiamo nessuna particolare passione per la fantascienza a Enrico piaceva un po' guardare le stelle ma neanche tanto però abbiamo questo nome fantascientifico e ci parlano di alieni e mi chiedo cosa c'entrano gli alieni? tra l'altro il racconto del nome è proprio quello paesi, cioè mondi possibili ma molto lontani e telescopi per provare a guardarli gli alieni noi cerchiamo gli alieni fondamentalmente andiamo nelle periferie nelle zone lontane dal centro e cerchiamo l'altro da sé cerchiamo delle identità problematiche, complesse, diverse e in un movimento ancora una volta centripeto proviamo a riportarle al centro della città la nostra azione parte da San Filippo Neri che è un oratorio barocco in centro a Bologna quindi la nostra azione è proprio andare a cercare identità marginali e riportarle al centro e cerchiamo di essere a nostra volta alieni cioè quando noi siamo andati per esempio a fabbrico in provincia di Reggio Emilia 6.000 abitanti abbiamo fatto la rivoluzione facile se sai con chi farla eravamo degli alieni nel paesino di fabbrico eravamo dei tizi strani che facevano il teatro e andavano in giro a chiedere alle persone ma chi è per te rivoluzionario qua? tu sei rivoluzionario? cosa è successo di rivoluzionare la tua vita? ed eravamo un po' gli alieni quindi cercavamo di portare e mi sembra importante all'interno del discorso sulle piccole comunità uno sguardo completamente esterno noi di fabbrico non sapevamo nulla e abbiamo cercato di guardarla col nostro sguardo cioè di gente che non ne sapeva nulla e abbiamo scoperto per esempio che il loro teatro si chiama Pedrazzoli perché un bracciante è morto costruendolo e anziché teatro del popolo come si doveva chiamare si è chiamato Pedrazzoli dal nome del bracciante morto e questo mi sembra che la dica moltissimo sul rapporto tra comunità e i loro teatri l'altra parola attraverso la quale mi piaceva passare evocata da molti amministratori è ospedale dice che quando si chiude l'ospedale i cittadini vanno in teatro a parlarne cosa cerca di fare Kepler? cerca di andare dal cittadino che si riunisce in teatro per parlare di ospedale e di chiedere al cittadino di parlare in scena del perché cioè è un problema che chiude l'ospedale cercando ovviamente non di portare un'istanza orizzontale sul palco ma provando a indagare nell'identità di quel singolo cittadino e in quella comunità che cosa significa la chiusura dell'ospedale che tipo di temi tira in ballo che tipo di paure profonde dell'individuo in questione tira in ballo e cercare così in alto come in basso di tirare un filo che possa portare verso l'universale cioè si parte da un problema specifico si cerca di scavarlo dentro l'identità di qualcuno e si cerca di restituirlo in scena provando a renderlo universale qua ci sarebbe un approfondimento interessante che forse non c'è il tempo di fare sulla parola protagonisti che ha evocato l'assessore Agnoli e che ha giustamente tirato le attenzioni di Caterina parola scivolosissima cosa vuol dire che i non professionisti o esperti della vita come li chiamano i rimini protocol sono protagonisti in scena ecco protagonista è una parola che a me fa subito venire in mente una certa quota di narcisismo che è una cosa fondamentale per salire in scena altrimenti non ci vai ma quello che noi tentiamo di fare è proprio di a parte che ci interessa molto di più la gente che non vuole salire in scena piuttosto che quelli che smaniano cioè sempre quelli che dobbiamo convincere a cui dobbiamo fare violenza per salire sul palco sono sempre le identità più interessanti nell'essere protagonista noi cerchiamo di eliminare una quota di chiacchiera e una quota di autorappresentazione ci proviamo ci riusciamo ogni tanto e proviamo a vedere sotto questo che cosa c'è che può trovare sede e spazio in scena per tentare di sondare e rubo la parola a Elena gli abissi diceva Elena inerpicarsi negli abissi che non so cosa vuole dire ma mi colpisce molto quello che noi diciamo del nostro lavoro che è anche la parola che abbiamo scelto in questa raccolta di parole della giornata è magnificare cioè cercare di individuare un'identità instaurare con essa una relazione quanto più possibile informale fingendo il più possibile che artisti e cittadini che incontriamo siano esattamente sullo stesso piano cosa che infine non è nella realtà del percorso che facciamo nella messa in scena e proviamo a rendere queste identità opale magnifiche di strapparle al luogo del quotidiano del piccolo grazie e di restituirle al luogo al quale ci pare appartengano che è quello della della meraviglia e quindi cercare di interpretare la realtà e le cose che si vedono davvero quando esci dal teatro come un abisso cioè cercare lì l'abisso vado quasi a chiudere dicendo amore e politica che evocava Chiara Guidi uno dei nostri progetti che faremo anche ad Agora è comizi d'amore quello che quello che ci piace provare a immaginare è di poterci muovere tra direttrici orizzontali e verticali come se potessimo muoverci tra Marx e Freud tra la possibilità di interpretare la realtà secondo i dati quantitativi qualitativi economici provando a far vivere quei punti di rimosso che riguardano proprio la distribuzione del denaro e che tipo di traumi parola che evocava Gerardo Guccini siano correlati a questa distribuzione del denaro e come in scena possiamo raccontare o provare a raccontare tutto questo l'ultima parola che è stata molto evocata in particolare sempre da professor Guccini è la parola realtà dobbiamo uscire dal teatro e relazionarci con la realtà dobbiamo stare dentro il teatro come gli scalognati di Pirandello e produrre una cosa con una sufficiente forza autonoma perché da fuori vengano dentro non è una dicotomia secondo me la fuori la realtà che c'è la fuori ci pare che abbia una sufficiente forza autonoma da costruire un'opera d'arte non è l'unica strada possibile per farlo ma secondo me non è una scelta cioè non è che fare teatro sociale qualunque cosa questo voglia dire teatro partecipato qualunque cosa questo voglia dire e relazionarsi col fuori abbia nulla a che vedere con la qualità è una modalità cioè come un'altra noi abbiamo fatto Chekhov il giardino di Ciliegie che sarà una produzione di Earth con due persone che nella vita si occupano di cattura dei piccioni perché erano molto simili a Gaev e a Liuba del giardino e in questo movimento io credo veramente che noi non dobbiamo cioè dobbiamo tenere forte l'idea che non dobbiamo scegliere tra il coinvolgimento di non professionisti tra il dialogo con la realtà e un'idea astratta di qualità o di estetica o di linguaggio il coinvolgimento dei non professionisti è un dispositivo ancora abbastanza poco esplorato in generale e in Italia in particolare dunque quello che mi pare è che la realtà se la guardi bene e se ci entri in contatto profondamente e ti relazioni ad essa ha una sufficiente forza autonoma come ce la può avere uno spettacolo per essere un'opera d'arte ecco grazie a tutti grazie a tutti